Nel darvi l'ultimo saluto della giornata, pieno di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte sia un riposo nella pace del Signore. Non intendo di assupere quello che aveva detto il predicatore così ampiamente, tiro soltanto la conclusione. Amiamo senza riserva alcuna come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quelli di un Dio che ci ama con amore infinito. Ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha salvato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore, facendo nostro il motto dell'Apostolo San Paolo, il quale si dice non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crucivissimo. E questo affinché ci stimassimo scrucivissimo al mondo per vivere unicamente e solamente a Dio. e poi un pensiero. In questa giornata del bombastone di cui ha parlato ormai il predicatore ha giunto solamente una cosa sola. La vera rivoluzione e quella è l'imitazione. e vediamo il cuore di Gesù specialmente nel dolore e allora ci renderemo sempre più uniformati a questo divincuore affinché un giorno possiamo anche noi, assieme a lui che ha tanto sofferto, quello di pagare il Celeste Padre e la Sonicità. Grazie. 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 Grazie.